Una recente indiscrezione vedrebbe il neotronista Brando fuori da uomini e donne dopo le segnalazioni degli ultimi giorni. Brando, recentemente annunciato come tronista della nuova edizione di Uomini e donne, potrebbe aver concluso la sua esperienza al dating show condotto da Maria De Filippi, prima ancora di iniziare. Il 22enne originario di Treviso, infatti, è recentemente finito nella bufera a causa di segnalazioni che sostenevano come fosse fidanzato, o che lo era stato fino a poco prima di iniziare le registrazioni. Una nuova indiscrezione avrebbe fatto luce sul possibile destino di Brando a uomini e donne. È stata Dejanira Marzano a riportare come il neotronista, dopo le segnalazioni degli ultimi giorni, potrebbe essere messo alla porta dalla produzione del dating show di Canale 5. Pare che Brando dopo le segnalazioni varie non sia arrivato neanche alla riapertura delle scuole. Si vocifera silurato. Vabbè vedremo prossimamente. Trattasi di un'indiscrezione da prendere con le pinze. Non è ancora chiaro se la produzione di Uomini e donne, abbia effettivamente deciso di allontanare il giovane tronista, dopo quanto trapelato negli scorsi giorni. Ad ogni modo, presto il programma tornerà in onda. Inizio fissato lunedì 11 settembre, e a breve si scoprirà se Brando farà parte o meno della nuova edizione del dating show. Ma cosa era successo di preciso? Dopo l'annuncio ufficiale della sua partecipazione a Uomini e Donne come tronista, sui social iniziarono ad arrivare segnalazioni che sostenevano come Brando fosse fidanzato con una ragazza di nome Alice. Sembrava quindi che i due fossero stati legati sentimentalmente fino a non molto tempo fa, e alcuni utenti avevano anche parlato della sparizione di presunte foto in cui li si vedeva insieme.